State cercando una soluzione per poter firmare o compilare un modulo PDF senza dover quindi stampare e poi processare e fare una scansione? Ho una soluzione per voi, ma prima voglio ringraziare ILOVEPDF che non c'entra niente con questo video per avermi mandato gentilmente questa simpatica t-shirt solo perché tempo fa ho parlato bene delle sue soluzioni. Come sapete io difficilmente sono sponsorizzato, se c'è da parlare bene parlo bene, se c'è da parlare male parlo male e tendenzialmente cerco di trasferire alla community qualsiasi tipo di soluzione che scopro essere un qualche cosa di molto utile per migliorare e velocizzare la produttività. Bene, arriviamo quindi all'argomento di oggi, recentemente Google Drive se avete fatto l'aggiornamento scoprirete che ha introdotto la possibilità molto utile, aggiungo, di poter scrivere sopra dei PDF anche se non sono PDF editabili in modo nativo, quindi anche un PDF per esempio scansionato. Allora, è molto semplice, andiamo direttamente in Google Drive, Google non mi sta sponsorizzando anche in questo caso, ne parlo bene perché lo ritengo utile come strumento, in basso a destra troverete un piccolo simbolo della penna con scrittura. Aprendola si apre lo scenario delle varie possibilità, non sono moltissime ovviamente, ma è quello che serve fondamentalmente. Abbiamo la possibilità di scegliere un colore, possiamo scegliere per esempio il colore nero, le dimensioni della penna e possiamo scrivere sopra il nostro documento, per esempio possiamo fare una firma. Se dovesse servirci la funzione evidenziatore, ecco che anche in questo caso possiamo scegliere il nostro colore, possiamo scegliere anche in questo caso le dimensioni e andare a evidenziare la parte di testo che ci interessa. La gomma ci permette in ogni momento di cancellare eventuale modifica e poi abbiamo la freccia avanti e indietro per recuperare magari un'erata cancellazione, un erato intervento oppure tornare indietro, ecco tornare indietro o andare avanti. Quindi possiamo sempre ripristinare le ultime azioni svolte. Poi sulla destra abbiamo visualizza le modifiche apportate, le aggiunte oppure non visualizzarle. Fatto ciò non ci resta che salvare. C'è la possibilità tramite i tre tasti laterali di salvare una copia, così possiamo mantenere il nostro documento originale senza modifiche e salvarne quindi una copia da spedire con le modifiche, altrimenti possiamo salvare direttamente sul documento. Sappiate che se doveste salvare direttamente sul documento è comunque, anche questo molto vantaggioso, possibile andare a rieditare la parte di testo precedentemente editata, quindi potremo sempre riprendere la nostra gomma e cancellare per esempio le modifiche apportate. Bene, quindi con questo è tutto. A questo punto sapete che se...